Signore e signori, queste meravigliose bistecche per tutti alla griglia! E allora, Ilari, visto che la griglia è già accesa... Scusate, mi ero perso questo momento pazzesco, stava piangendo perché ha visto della bistecca E allora, che cosa farai adesso che Enrique la mette sulla griglia? Cosa farai? È per me? No, non è per te Come no? Ah, è mo' la giri... No, 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 è sua la griglia Adesso si è improvvisato lui, lo chef dell'Hondura Allora, io la prendo, io la prendo meglio No, Gianmaria, non prendi niente Gianmaria, tu non prendi proprio niente Fai così, Gianmaria Torna con gli altri perché vedo che l'odore della bistecca alla griglia Una follia! Vai andando via, Albi! Vai! Vai!